L.A. Regina Elisabetta II ha dato una reazione brusca a suo zio. L'abdicazione di Edoardo VIII che la riassume brillantemente. Si dice che sua maestà si stia preparando per il prossimo episodio delle bombe di suo nipote che hanno dato al mondo una nuova visione della vita reale. Dopo che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno parlato con Oprah Winfrey delle loro ragioni per trasferirsi negli Stati Uniti, la regina ha risposto e ha rilasciato una dichiarazione di 61 parole in cui si diceva che mentre alcuni ricordi possono variare. La questione della razza era profondamente preoccupante. Punto. Ha anche affermato che sia suo nipote che Meghan Markle sarebbero sempre stati membri della famiglia molto amati. Alcune settimane dopo la messa in onda dell'intervista, il principe Filippo morì nel sonno. Durante il suo funerale, la regina è stata raffigurata seduta da sola con una copertura per il viso e sembrava anche asciugarsi una lacrima dal viso. Filippo era l'ultimo reale rimasto che era stato al fianco della regina durante il suo regno. La regina Elisabetta II aveva solo 11 anni quando suo padre fu informato che sarebbe stato re in seguito all'abdicazione del fratello Edoardo VIII che aveva deciso di voler iniziare una vita con la divorziata Wallis Simpson. Nel documentario di Netflix Elizabeth and Margaret, Love and Loyalty Il biografo autorizzato della principessa Margaret, Christopher Warwick, ha toccato una conversazione che ha avuto con sua sorella maggiore riguardo alla corona. Il signor Warwick ha detto. L'abdicazione li ha gettati tutti. Punto. È stato un evento sismico che lo zio David avrebbe rinunciato al trono e come mi ha detto la principessa Margaret perché le ho detto come hai scoperto l'abdicazione. E lei ha detto beh. Da mia sorella che ha detto zio David se ne andrà e papà diventerà re. Così le ho detto. Significa che sarai la regina? Elisabetta ha guardato Margaret e ha detto un giorno. Da quando è stata incoronata regina nel 1953, sua maestà si è dedicata ai doveri reali. La sua incoronazione fu il più grande evento trasmesso dalla televisione nazionale all'epoca. La sua famiglia è sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale e quando era regina, sua maestà ha sviluppato uno stretto rapporto con l'ex primo ministro Winston Churchill negli anni 50. Quando Sir Winston è morto, la regina ha infranto il protocollo quando gli ha scritto una lettera in cui diceva che le sarebbe mancato.